E allora, chi mi paga i danni? Sono arrivata in galleria a Francia, mi ha sotteso una pazzola. Sono arrivata a Francia dai capelli fino agli stivali. Ora chiedo di stracimento d'anni. A chi? Non lo so. Oh, sto scherzando, ci vediamo stasera. Oh, buona serata. Buona serata a tutti. Stasera sentirete questo video, vedrete meglio questo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.